All'indomani di una delle più brutte partite dell'Italia ai mondiali, perlomeno in tempi recenti, parliamo della situazione, ma lo facciamo non prima di aver chiarito alcune note a margine di questo Be ad Africa, di questa mia rubrica. Allora, io parlo di calcio e politica e poi scrivete, voi che seguite questi video, scrivete che non devo mischiare le due cose, non sono io che le mischio, è la realtà che le mischia e poi per capire l'una non è detto che non si debba fare riferimento all'altra. Se invece io parlo di calcio e basta e dico che di Natale deve giocare al posto di Marchisio, qualcuno si sveglia e dice ma che questo Be che non se ne intende di calcio, perché sono tutti naturalmente commissari tecnici, è come mai e poi in un giornale politico come il fatto parliamo della posizione di Marchisio, allora bisogna che vi mettiate d'accordo con voi stessi, il cervello con la lingua, con la penna e con tutto il resto. Allora vi faccio una proposta, io parlerò sia della botte piena o mezza piena, sia della moglie ebbra, ubriaca o cocainomane, parlerò delle due cose insieme per vedere se mettiamo a fuoco lo stato della famiglia. Torniamo all'Italia, una delle più brutte partite, sì, perché è tutto sbagliato, purtroppo è bartalianamente tutto sbagliato, se voi pensate che proprio ieri mattina è morto purtroppo Roberto Rosato, uno degli eroi, con tutte le virgolette del caso, della più bella partita, almeno della partita che in memoria è rimasta più impressa agli italiani della mia generazione, cioè quella del 1970 in Messico fra Italia e Germania, una semifinale, come qualcuno saprà, vinta dall'Italia 4 a 3 supplementari con il gol di Rivera e via dicendo. Bene, c'è una targa all'Asteca, allo stadio Asteca che la ricorda. Misurate la differenza che c'è fra quella nazionale, quel Brasile, fra l'altro che poi ha vinto in finale, e il calcio di oggi, e il calcio di Lippi, quattro anni fa noi si è vinto un mondiale, ma dobbiamo desumere che si è vinto un mondiale un po' per fortuna, un po' per bravura e un po' molto, perché da giustizialisti quali siamo, diciamolo, c'era la paura di andare in galera. Vi siete dimenticati i calciopoli e tutto il macello di allora? E c'avevano una motivazione forte per fare bella figura, adesso loro hanno una motivazione forte per tornarsene a casa e andare in vacanza. Lippi sta contando i soldi che gli daranno in Dubai e Cannavaro lo stesso e si vede queste cose, il calcio le traduce immediatamente in campo. Si sono portati dei vecchioni, il che poteva essere legittimo se questi vecchioni avessero garantito un affidamento particolare. Non lo garantiscono, lo si vede, non c'è niente da fare, lo si vede in campo con Cannavaro, lo si vede contro la Nuova Zelanda, la peggiore delle 32 squadre del mondiale, una squadra modesta. Oggi la Nuova Zelanda col Sassuolo in Serie B perde 4 a 0, ve lo garantisco io, perché Sassuolo gioca a calcio, mentre la Nazionale di Calcio non gioca a calcio. E naturalmente tutto ciò è un mulino, un mulinello, un volano per un'insoddisfazione generale. Se uno investe sulla propria Nazionale di Calcio, come se fosse, che ne so, una parte del PIL, del prodotto interno lordo degli umori della nazione, è chiaro che se poi fa ridere la Nazionale di Calcio c'è una depressione generale che si aggiunge a tutti gli altri problemi. Ecco qui perché la botte piena o semipiena e la moglie abbastanza ubriachella. Allora, ieri si sono viste cose mostruose, si sono viste errori di Lippi che ha riportato Marchisio in campo in un'altra posizione sbagliando continuamente. Dopo un tempo si è convinto di aver sbagliato, ma allora ha regalato un tempo agli avversari e quel tempo è stato sufficiente a segnare i due gol che sapete. Non c'è la voglia di giocare fino in fondo, non sono pericolosi, non hanno identità. È una squadra così così, con poche motivazioni e che risente anche di un clima generale della federazione e di tutto l'ambiente. Avete mai visto una federazione che 20 giorni prima di partire per il Sudafrica cambia commissario tecnico e ratifica un nuovo commissario tecnico per il dopo? In un altro paese sì, è vero, in Inghilterra non succederebbe niente di strano, a parte che anche loro non godono con capello in questo momento, non succederebbe niente di strano in un altro paese, in Svezia, Norvegia, ma da noi è il sintomo di una confusione totale. E se hanno confusione in federazione, se hanno confusione come commissario tecnico, se hanno confusione in campo, ma perché dovrebbero vincere? Basta la Nuova Zelanda. Siamo per un giorno tutti neozelandesi.